Adesso facciamo il dite del nastro, se lei schiaccia... Si realizza proprio ciò che io vado dicendo da tanti e tanti anni, mettere la persona al centro, mettere al centro dell'attenzione nostra il malato non come caso ma come persona con le sue esigenze uniche e ripetibili e utilizzare le più moderne tecnologie per facilitare la vita dei nostri malati. I nostri ospiti che sono qui da anni ci dicono io quando potrò andare là, vuol dire che allora hanno visto che possono credere ancora nelle loro capacità perché ne hanno. Ciao, 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 ciao. Stasera speriamo di farcela, è dura stasera, ecco, Manchester. Guardi la partita stasera. Ciao, ciao, ciao. Questo è il luogo della sussidiarietà realizzata, questo è un luogo in cui ciascuno può realmente riappropriarsi della propria dignità.